Nel 66-67 la Fiorentina si classifica al quinto posto, è una squadra che dà sempre più spazio ai giovani del vivaio. Per parlare di quella Fiorentina siamo andati a casa di Claudio Merlo a Vicchio nel Mugello, ma abbiamo sentito anche il parere di Egisto Pandolfini, grande talent scout e responsabile di uno straordinario settore giovanile viola. Il 66-67 è un'annata significativa per la crescita di molti giovani della Fiorentina, tra questi giovani c'eri anche tu, avevi 20 anni e quell'anno collezionasti 28 presenze in campionato. Ma avevo 19, non mi aumentare perché adesso ero... 66-67 Sì, 20 anni, compiuti, era un bel settore giovanile, uscimmo in 4-5 ragazzi del settore giovanile e poi su questa ossatura si vinse lo scudetto. Segnasti due gol in quel campionato, una doppietta contro il Venezia in trasferta, finissai a 2 per la Fiorentina? Potevo segnare anche di più, ma aprimi un gol proprio sulla riga bianca della porta e segnò lui, ma fu una soddisfazione immensa. Avresti avuto la possibilità di segnare altri gol, ma non era la tua peculiarità quella di segnare gol, facevi fare gol? Io ero il classico giocatore dall'ultimo passaggio, proprio il gol non lo sentivo, tutti dicevano perché non avevo il tiro, ma quello non c'entra, perché quando uno al limite dell'area può tirare quando vuole, ma dentro di me sentivo più la soddisfazione di dare la palla a gol che di segnare. Il fulcro del centro campo, il giocatore dato di tecnica, di grande fantasia? Il fulcro era Giancarlo De Sissi e quello che, insomma, il regista dell'azione, io ero quello che dovevo portare, librare l'uomo, dare la palla a gol, era una cosa difficile. Poi, sai, i giornalisti poi hanno cominciato a dire che reggevo un tempo solo, ma un conto è giocare in orizzontale e un conto è in verticale. Probabilmente anche perché era difficile comunque riuscire per le tue caratteristiche ad essere continuo per tutta la partita. Ma sai, io penso che i giocatori tecnici hanno tutti le pause, vediamo adesso anche i grandi giocatori che non giocano 90 minuti, ma sì, giocano tanto, però hanno anche loro delle pause. Ma ho detto, quando devi dribblare l'uomo, devi andare sul fondo, crossare e fai dei 30-40 metri con la palla di scatto, io penso sia un po' difficile per tutti di giocare con continuità. Ma Merlo era un giocatore che a centrocampo non era inferiore a nessuno, in quei momenti lì, in particolar modo parlo di giovani. Merlo giocava in una categoria inferiore alla Serie A, ovviamente, faceva la Serie C, la C2 c'era allora, mi pare. Perciò Merlo è stato uno dei giovani che ci ha dato anche lui quelle soddisfazioni che tanti altri ragazzi ci hanno dato. Ci furono prestazioni eccellenti da parte dei Viola, ma anche delle battute a vuoto per voi. E vabbè, ma la nostra gioventù c'erano delle partite che ci esaltavamo, delle partite a vuoto. È una cosa normale quando uno ha vent'anni e c'erano 4-5 ragazzi della mia stessa età. In quel campionato, nel mese di novembre, esordisce Salvatore Esposito. La Fiorentina a Cagliari perde 1-0, ma trova un centrocampista di grande rendimento. Meno male è uscito Esposito perché nei primi tempi mi visero giocare anche Mediano. Non era il mio ruolo, ma Esposito era un grandissimo giocatore perché aveva un grande passo, una grande tecnica, che però Mediano non era da poco. Ma sì, l'abbiamo trovato in una delle tante partite, diciamo, di allenamento, di provini, come si usava a dire. Noi avevamo un nostro collaboratore in Campania in cui ci segnalava i ragazzi migliori, proprio ragazzi, perché Esposito era un ragazzo quando noi abbiamo ritenuto opportuno portarlo a Firenze. Non mi ricordo gli anni, ma ne aveva così pochi che… 14. Ecco, 14 anni, me lo ricordi, mi fa anche piacere. Mi ricordo che era un ragazzino, oltretutto anche il prezzo, perché lo pagavamo 300 mila lire, questo me lo ricordo bene. E questo è stato uno delle cose belle che noi ricordiamo molto volentieri. Insomma, un ragazzino che poi è arrivato a giocare nella nazionale e ci ha dato molte soddisfazioni. Aveva solo una lacuna, gli mancava qualche chilo di muscoli. Se avesse avuto le mie gambe, Esposito, le mie gambe, dico solo, mi limito a dire le gambe, perché io grazie alle gambe sono diventato un buon giocatore. Se Esposito avesse avuto le mie gambe, sicuramente faceva il doppio di quello che ha fatto, perché nel calcio moderno, purtroppo, io non l'apprezzo ma è così, ci vuole prima i muscoli e poi la testa che guidano i muscoli. Il rapporto con Chiappella, quanto era saldo per poi poter costruire una Fiorentina sempre migliore? Ma Chiappella questo discorso l'aveva afferrato, è stato uno dei principali allenatori, perché parlare dei giovani agli allenatori non era facile, perché ai giovani c'è sempre qualcosa da scoprire, qualcosa da aspettare o da scartare anche. La Fiorentina di allora deve molto a Chiappella, perché la squadra IEI l'aveva impostata lui. Durante la settimana quanto viaggiavi alla ricerca di talenti? Io ogni anno cambiavo una macchina, ti posso dire questo, perché si girava l'Italia e abbiamo avuto dei grossi risultati. Ci siamo dati da fare molto, forse siamo stati una delle prime società che ha fatto le squadre gemellate sia nel nord che nel sud, ma le squadre gemellate vuol dire andarle a trovare spesso e volentieri. Io mettevo su i tre o quattro collaboratori e si girava l'Italia. Quali sono stati i tuoi più stretti collaboratori? Beh, io posso dire i due stretti collaboratori, quelli più ufficiali che erano anche stipendiati dalla Fiorentina, era Biagiotti Aldo, del sesto Fiorentino e il grande Cervato. Grande Cervato che quando mi trovava un giocatore e mi diceva io lo voglio rivedere, lo prendevo subito perché il Cervato era così esigente da essere anche spronato per farci trovare dei ragazzi giovani. Ma quando diceva io lo voglio rivedere perché oggi tirava vento, c'era il fango o pioveva, lo prendevo subito. Il 66-67 è anche l'ultima stagione in viola per Kurt Ambrin, era lui una delle guide di quella squadra? Assolutamente, era la guida, noi avevamo due guide, avevamo il portiere Albertosi in porta e Ambrin avanti. Ambrin era veramente il nostro padre, ci consigliava, ci dava delle esprone, poi noi giocavamo proprio per lui, lui con noi ha fatto parecchie cose, è divertito tantissimo. Se voi lo andate a intervistare dirà queste cose perché dice con quella squadra là mi sono divertito parecchio. Ho 16 gol in quel campionato e tu quante reti gli facesti segnare? Tantissime, tantissime perché bastateva per la parla d'ambri oppure uno tirava in porta e il portiere faceva uno sbaglio e lui era sempre lì a segnare. Lui giocava sempre sullo sbaglio dell'avversario o del portiere, un grandissimo giocatore veramente. Quella stagione fu funestata dal dramma dell'alluvione, come vivesti quei giorni e che cosa ricordi? Ricordo delle cose bruttissime, ricordo l'acqua che arrivava fino al Ponte Rosso, noi eravamo da quest'altra parte e l'acqua non era arrivata. Mi ricordo che lo stadio era il punto dove arrivavano i viveri per la gente, noi scaricavamo noi giocatori, scaricavamo tutta questa roba e poi per distribuirla, è stato un anno bruttissimo per Firenze e anche per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.